Ciao a tutti e ben ritrovati su Dragon Age Origins Per la mia somma gioia finalmente abbiamo finito Orzammar In realtà ci torneremo per una qua secondaria Ma niente di che rispetto a questo parto Diciamo che sono le vie profonde almeno per i miei gusti I nani di per sé mi piacciono però veramente il tutto l'ho trovato troppo lungo, troppo pesante Comunque noi andiamo avanti E adesso andiamo a riposarci un po' all'accampamento Lo sapevo che mi stavate nascondendo qualcosa Cacciata? E per cosa? Mi sono affrontata, scoprata da qualcuno che credo che conoscevo e potremmo Marjolene Come vi ha tradita? Documenti importanti? Non è questo che fanno i bardi? Un'altro. Ma ho sempre pensato che Marjolaine solo operava in Orlais. Questo è stato un sorprendente per me. La mia vita ha guardato, mi ha insegnato che i miei loyalties devono essere fluido. La mia preoccupazione non è che lei fosse una trazione, ma che la sua vita sarebbe in danger se fosse giocata. Orlais è stato in guerra con molti paesi. Ehm... Consegnate i documenti a qualcuno? To Marjolaine. No un altro. I resell them and gave them to her, as she had instructed. I should have left well alone, but I didn't. I had to tell Marjolaine I feared for her life. She brushed aside my concern. She admitted her guilt, but said it was in the past. That is why the documents had to be destroyed, she said. I believed her. I kept believing, up till the moment they showed me the documents, altered by her hand, to make me look the traitor. Chi sono loro? The Olesian guards. They captured me. Did terrible things. To make me confess and reveal my conspirators. It was a traitor's punishment I endured. And at the end of it, all that awaited me was eternity in an unmarked grave. Come siete riuscite a scappare? The skills Marjolaine taught me were good for something, at least. I broke free when I saw the opportunity. I did not seek Marjolaine out. If she thought I was coming for her, she would have me caught again. And so I fled to Ferelden, to the Chantry and the Maker. Ferelden protected my person and the Maker saved my soul. And that is the reason I am here. The real reason. No more lies between us, at least in this. It feels good to have this off my chest. Thank you for listening and understanding. Eliana finalmente si è confessata con noi, ci ha svelato il suo segreto, però adesso prima di continuare a chiacchierare con i nostri compagni di squadra direi che è ora di fare un aggiornamento dell'equipaggiamento. Tadam! Elisa ha cambiato armatura! Yuhuuu! Questa qui è l'armatura del mod delle armature Fenix, che è la stessa che ha già anche l'Eliana addosso. All'inizio non avevo intenzione di mettergliela, ma visto che era già da un po' che aveva quella del picco del soldato, mi avevo un po' annoiata, ho deciso di cambiarle lo stesso. In realtà, questa durerà poco, perché più avanti troveremo un'armatura più bella e più forte da metterle, però ho deciso di cambiare un po', tanto era comunque più forte di quella del comandante dei custodi grigi quindi ho anche cambiato l'armatura Stennel, l'armatura Ogren e qualche pezzi qua e là per adesso Elister ancora no perché a breve troveremo anche la sua armatura definitiva quindi per adesso si tiene ancora quella ho anche distribuito un po' di regali in giro perché ormai avevo l'inventario pieno e così ho aumentato un po' di approvazione in giro tra i vari compagni di squadra quindi adesso dovrei aver sbloccato anche nuovi dialoghi iniziamo dalla compare Shale che tra l'altro appena avevo fatto delle scoperte interessanti a Orzenmar Shale of House Kadash, is that who I once was? I find this difficult to believe eh sei alto per essere una mamma credi che il nome sia una coincidenza? if I was this Shale of House Kadash as Karadin said there must be some evidence of my existence remaining I must find it forse ci sono dei registri a Orzenmar there is another way what Karadin said it is allowed me to remember one thing I believe I know where Kadash Taig is che viva torniamo a Orzenmar se vuoi possiamo andarci anch'io curiosissima vabbè comunque è abbastanza accorto rispetto al resto però capito questo potrebbe essere un bene e un male? good, of course it doesn't want to have anything in common with all those other filthy substandard human types does it? surely it must come from some superior lineage, yes? some breed of flesh creature that has decided to elevate its genetic stock above its natural shortcomings mio padre era il Teirn di altura perenne oh, then that must be it e noi non verremo mai una cosa simile indeed can it imagine the horror? now, let us crush something into a fine paste before it starts to think I've gone all soft perish the thought I have a question for it, if it will indulge me it chose to side with Karadin and destroy the Anvil of the Void I agree with its decision and yet the Paragon Blanca was the reason it ventured into the Deep Roads why did it choose to defy her? it could not have known for certain that Karadin would be able to assist it with the dwarves ero disposta a correre il rischio, era la cosa giusta da fare that was quite the risk I am pleased that it worked as it did at any rate I wanted to thank it it gave Karadin the end he wanted and I'm pleased to have been a part of it I will have to think on Karadin's words to me it was a great deal to absorb but for now let us go on it speaks it doesn't have better things to do quindi sei una femmina non ne avevo idea I did not think it needed to be said it has never told me what gender it is has it? she's got a point sono una femmina no niente affatto good, let us leave it at that now let us crush something soft and watch it fountain blood that is a girlish thing to want to do yes? adoro Shale allora Morrigan non dovrebbe avere niente di nuovo da dirci ma ma se le diamo questo oggetto ovvero il golden mirror che lei già ci aveva parlato di uno specchio tempo fa what have you there? a mirror? it is just the same as the mirror which Flemeth smashed on the ground so long ago it is incredible that you found one so like it I am uncertain what to say you must wish something in return certainly non essere ridicola a Morrigan è un regalo you say that as if I should be accustomed to such a thing I have never received a gift not one which did not come at a price I suppose I should say thank you for the gift it is most thoughtful truly con Stan non c'è niente di cui parlare quindi andiamo a conoscere un po' Ogren che cosa anche io si voglio bene Ogren sputa il rospo nano come si chiama? her name is Felsi she and I were friends after Branca left for the deep roads I'm sure she's forgiven me by now thought maybe I'd track her down see how she's been living hai tradito Branca che intendi dire con eravamo diventati amici dai più politica le corri ho capito non c'è bisogno che continui no 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 stop looking at me like that anyway she left for the surface a year back and I haven't seen her since per che sen'è andata what why are you asking me I didn't do anything I tried to look her up the last time we were at Lake Callanhed she wasn't at work at the end at home with her sick mother they said Mi stai nascondendo qualcosa? E io che credevo che fossimo amici. Aspetterò a sentire la sua versione. Troveremo questa Felsi, te lo prometto. Oddio no! Mamma mia! Eh vabbè, vorrei sapere di più su di te. Ti piace il mondo in superficie? E' bello. Allora, io ero un po' sottile con tutto questo l'alto, ma c'è così tanto. Nessuno ha capito di chi sei o cosa stai, o cosa stai facendo. E' un'alto? Chi si pensi che un'alto con grano? Ah, la superficie è bella. E' come un mondo brillo con grano senza un cilino. E' il mio tipo di posto. Ehi, andiamo a trovare qualcosa da uccidere, eh? Tutta questa parola rende le mie mani sottili. No, vabbè ragazzi, io adoro Ogren. Non ce la posso fare. E' un personaggio fantastico, scusate. Cosa c'è che non va Ogren? Nessuno. Nessuno. Solo... Ho un po' di orecchie. Ti voglio parlare di qualcosa? Beh, vorrei sapere... Saperne più di te. Cosa c'è? Sei sicuro di stare bene dopo ciò che è successo con Branca? Oh, certo. Mi sono bene con questo. Cioè, lei era una vera faiera tra le scuole. Ma un po' soft in la scuola, sai cosa dire? Mi racconta perché si è lasciato, comunque. Ma immagino che non fosse così pazza quando se n'è andata. Oh, tu non lo sai. Si fu fu fuori come un piaccio. Prima era una paragonia, diciamo. Dopo quello, si è piaciuta davvero. Mi racconta, mi racconta e mi racconta con l'espezza di acqua. Che c'è che non ho? C'è solo il pensiero dei due, insieme, e mi racconta con l'espezza di acqua. Oh. 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 Ma che stronzo Ma Ma Mi ha detto che sono brutta Ma che stronzo Ma Isultiamolo Ecco No proprio qui Proprio qui il mio bel nano focoso Oh mio dio Dovrebbe svegliere a un certo punto Ecco E' troppo andato Non ci si è Scusate E' veramente un elemento Adesso lui è ubriaco Non gli si può più parlare Tornate un spezzo Riproviamo Vediamo ancora Come essere un guerriero Ad Orzammar Che vuoi dire? Capisco cosa intendi Deep stalker You don't expect it Not to eat the thing Right? Eh This makes me cranky Don't you have any other Any questions? Parleremo un'altra volta Puoi insegnarmi a combattere Come te? No In realtà lo sono già Max Dimmi di più sui berserker Dimmi di più sui berserker You get mad You fly in the battle And things die It's pretty simple The hard part Is getting in touch With your rage We all learn To hold that back It's why we don't kill Every duster Who looks at us sideways You need to Shut that off For some people Being in battle Is enough But others Have to think About something Violence Monsters Nobles Your wife Whatever Basta il pensiero E funziona For most berserkers It does Several years ago I worked with a berserker On one expedition Just couldn't work himself up We had to kick him In the stones Before he could get going Perché mai vorresti Combattere in quel modo? Why not? When you fight You get mad By the stone It's a sodding tactic To enrage Your enemy So he makes A mistake Right? Berserkers Grab that anger And drink it Like it's yesterday's ale Then we turn it Against our foes And watch the limbs fly In effetti Dai mi piacerebbe diventare Un beserker In realtà lo sono già Ma I can teach you What gets my hackles In a twist But no one Can tell you What'll set off That killing rage In you Finding that Is the key to berserking And once you got that I tell you The ladies love it When you're all Mysteriously angry For no reason Trust me Non è proprio Al mio massimo interesse Però You're a quick study Warden You must have been Seriously steamed up About something For a long time Grazie per la lezione A presto All right then Voglio solo vedere Se riesco ancora A farlo svenire Perché è divertente Ecco Ma questo è il mio Accampamento Ogren Oh no You don't You can't come Swishing in here And take over The warden's camp Just like that I'll fight you With my Sodding weapon You Moss biting Poetist Ho capito Pensi che io sia Espit Your disguise Can't fool me Woman That's right You keep looking At me like that I'll just go get My pants From that Sodding dog Eccolo È svenuto Bene Ogren E caput E noi andiamo avanti Grr Se vi ricordate L'ultimo discorso Con Win È stato A riguardo Me Anzi scusate Elis e Dalis Stanno dicendo che I grey warden Non possono Fraternizzare Quindi Vediamo un po' Se Riusciamo a farle cambiare idea Grr Avete cambiato idea Riguardo Dalis Sarà e me Grr Sarà meglio Ma anche lui Rende felice a me Ma a te Non frega niente di me Quindi vedete Vi sbagliavate Su di noi Scusa e accettate Grr Scusa e accettate Farà meglio Guarda che Io ti osservo Win Ah vabbè L'Eliana Non ha più nulla Da dirci Abbiamo già parlato prima Vediamo Zevran Ti va di rispondere A qualche domanda Parlami delle tue avventure Io chiaramente Intendevo Al tuo tempo Con i corvi Qualcosa di più affascinante Mani in pasta in politica Come? E lei non ha cercato Di ucciderti Ecco Quindi non l'avete Effettivamente uccisa E' stato fortunato Ho capito Quindi non mischi mai Lavoro col piacere Ma io non stavo Parlando di me No Ok qua Rischiamo adesso Di finire Nella zona torbida Diciamo Perché Se gli parliamo troppo Lui lo prende come flirt E poi l'altro è geloso Mio Dio Non so cosa fare Vediamo se ha qualche altra domanda Ma parlami ancora Delle tue avventure Se ti fa piacere No 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 I'll not inflict that Upon you just yet Let's see How about the largest battle I ever took part in That would have been The slaughter of Prince Azrin Did you hear of that Done in these parts? Have you ever meted a prince? Have you ever meted a prince? Have you ever meted a prince? Me? Not personally But I did take part in the attack Prince Azrin was fourth in line to the throne You see He started off as eleventh But worked his way up the old fashioned method By inheriting control of an entire cross cell From his grandfather After assassinating his way through the royal family The king hired three other cells To take down Prince Azrin Once and for all I was in one of those cells Is it something that happens often with Antifa? Cosa avete fatto? My part in the entire battle Was taken up trying to reach Princess Ferinna Who had thrown in with her brother I killed about eleven of her guards Personally Before I got knocked out of a window I landed in a river And nearly drowned I was fished out by some urchins Who robbed me blind Made off with my boots too At least they didn't cut my throat And that was my part in history Vabbè Sei molto fortunato It's true I live a charmed life One of the prostitute that raised me Was a fortune teller Said I wouldn't die young She was rather startled by that But there you go Tail told Let's be off before I tell more embarrassing stories Interessante che per lui Raccontarti le sue avventure Non è raccontarti dove si è fatto il figo Ma dove È stato Imbarazzante Però Si è salvato Quindi si reputa fortunato Diamo se altro da dire Puoi insegnare agli altri Di diventare un assassino? Finito con Zevran Vediamo quel cane Perché un po' Che consiglio Se non parliamo No boh Bene Abbatterà i nostri nemici Con il suo fetore Ma sì Fate pure In effetti È un odore un po' Arancido Povero Poverino La serata al campo Direi che ormai È giunto al termine E quindi è arrivato L'ora per Alice Di ritirarsi Nella propria tenta Col suo fidanzato E direi che loro Se ne vanno a dormire E noi invece ci fermiamo qui E vi ringrazio per essere stati con me E alla prossima Andiamo a dormire What can I say Your wish is my command La serata al campo E a dormire La serata al campo E la serata al campo E la serata al campo Grazie.